Ciao, incomincia ora la serie Origini, con sei time speciali. Iniziamo dalle origini dell'universo, poi vedremo l'origine della vita, l'origine dei dinosauri, l'origine dell'essere umano, origine della scienza e origine della parola. Oggi studieremo l'origine dell'universo. Richard Panek ha pubblicato un libro intitolato Il 4% dell'universo. In questo libro l'autore dice che tutto ciò che sappiamo in termini di fisica e astrofisica, praticamente tutto quello che sappiamo dell'universo, si riduce al 4%. Nonostante ciò, in questi 4% ci sono innumerevoli ipotesi, teorie e idee per quanto riguarda l'origine e la fine dell'universo. Esistono teorie che dicono che l'universo può essere in realtà diversi universi, ossia la teoria del multiverso, di universi multipli coesistenti. Ci sono quelli che sostengono che l'universo potrebbe essere eterno senza inizio o fine. Tuttavia la Bibbia, che per molti è davvero la rivelazione di Dio all'umanità, inizia il suo primo libro, primo capitolo, primo versetto, facendo una dichiarazione molto chiara e molto decisiva. Essa dice, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Pertanto per la Bibbia e per coloro che credono nella Bibbia, l'universo ha avuto un inizio. In un altro testo, che si trova nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse 14, versetti 6 e 7, leggiamo il seguente. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'Evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva a gran voce, temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Pertanto, secondo la Bibbia, Dio è il creatore. Il primo libro della Bibbia lo prova ed anche l'ultimo lo conferma. Inizia e finisce dicendo che Dio è il creatore. Perciò se ha creato, secondo questa concezione, l'universo ha un inizio, un preludio. Apocalisse 3,14 dice quanto segue. E all'angelo della Chiesa in Laodicea scrivi Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Questo testo in Apocalisse 3 e i successivi ci mostrano la visione di Giovanni circa le sette Chiese. Gli studiosi di profezie e i teologi intendono che queste sette Chiese rappresentano sette periodi attraverso i quali la Chiesa cristiana sarebbe passata. Stranamente Gesù si presenta in un modo diverso in ciascuno di questi periodi, in ognuna di queste Chiese, ma nella settima si presenta come il principio della creazione di Dio. Questo principio viene dal greco archè, che significa origine o agente della creazione. Pertanto questo testo in Apocalisse 3,14 presenta Gesù come l'agente creatore di tutto ciò che esiste. Come Giovanni, capitolo 1, versetto 1, che dice che egli è la parola che ha fatto l'universo e attraverso di essa è stato fatto tutto. Quindi un altro testo che afferma chiaramente che Dio nella persona di Cristo è il creatore dell'universo. Ma c'è qualche argomento fuori dal contesto della Bibbia per affermare questo? Forse la Bibbia nel dire che Dio è il creatore non sembrerebbe per alcune persone di pensiero relativista, lo stesso per i non credenti come iniziare nel modo sbagliato. C'è un argomento scientifico, filosofico, che appoggia pure questa idea? Crediamo di sì. Oggi parleremo dell'argomento cosmologico e nel prossimo video un po' di più del tema teologico. L'argomento cosmologico si compone di tre proposizioni che costituiscono un sillogismo. La prima dice che tutto ciò che ha avuto un inizio ha avuto una causa e questo ci sembra abbastanza ovvio, è abbastanza logico e di comune buonsenso. La seconda, la seconda premessa, dice che l'universo ha avuto un inizio. In questo caso dobbiamo fermarci per analizzare un po' di più, indagare, perché se stabiliamo che l'universo ha avuto un inizio basandoci sulla premessa numero uno, dobbiamo in ogni caso argomentare a partire dalla terza proposizione che dice che l'universo ha avuto una causa. Quindi, riassumendo, diciamo che tutto ciò che ha avuto un inizio ha una causa. Se l'universo ha avuto un inizio, se è così, l'universo ha anche una causa. Pensiamo un po' a questa causa e vorrei presentare questo argomento usando una figura, un'idea, ovvero un'illustrazione di un'auto. Pensa ad un'auto, metti il carburante, riempi il serbatoio e la metti in moto e la lasci accesa. La domanda che faccio è la seguente. Se avessi messo in moto la tua auto in un determinato periodo nel passato, starebbe funzionando ancora oggi? E la risposta ovviamente è no, perché tutto il combustibile chimico, benzina o altro, sarebbe stato trasformato. Una parte per il movimento ed una parte sotto forma di inquinamento ambientale. E la capacità di lavorare di questa auto, se fosse stata persino eterna, si sarebbe spenta da molto tempo. Quindi, se l'auto funziona ancora, ciò significa che non è eterna, che il motore è stato acceso ad un certo punto nel passato, ed è ancora funzionante, perché c'è tuttora combustibile chimico in esso per essere trasformato in movimento. Pensa ora all'universo come se fosse il motore di una macchina. L'universo funziona ancora, è ovvio. Le stelle bruciano il loro carburante. Tu che mi stai ascoltando, lavori ancora. Quindi immagina che l'universo fosse eterno nel passato. Sembra che non corrisponda ai fatti. Se l'universo fosse eterno nel passato, non ci sarebbe più carburante disponibile. Non ci sarebbero stelle che bruciano il loro combustibile. E adesso nemmeno noi saremmo qui a pensare, a parlare, ad ascoltare e ad agire. Queste conclusioni sono altrettanto chiare che la teoria, l'attuale teoria vigente, la più accettata per l'origine dell'universo, si chiama Big Bang. Puoi anche non essere d'accordo. Possiamo dissentire su vari aspetti di questa teoria, ma la cosa interessante è che essa è abbastanza teologica. Per quale motivo? Perché considera un inizio, colloca un'origine dell'universo. Tutto ciò che ha avuto un inizio ha una causa. L'universo, da quello che abbiamo appena visto, e da altre prove che il tempo non ci permette di affrontare in questo momento, tutto indica che esso ha avuto un inizio. E se l'universo ha avuto un inizio, deve esserci una causa. Ora pensiamo un po' a questa causa. Deve essere innanzitutto onnipotente. Perché deve essere onnipotente? Perché ha creato un universo che è molto vasto. Guarda, pensa soltanto alla nostra galassia, che è una su miliardi, la Via Lattea. La nostra galassia è un disco stellare formato da stelle, pianeti, nebulose. Viaggiando alla velocità della luce, cioè a 300.000 km al secondo, per attraversarla da un capo all'altro, impiegheremmo 100.000 anni solo per attraversare la nostra galassia. La nostra galassia potrebbe avere oltre 100 miliardi di stelle. Secondo gli astronomi, nell'universo ci sono da 40 a 100 miliardi di galassie, o anche oltre. Quindi considera il numero di stelle che ci sono nell'universo. Sono davvero innumerevoli. Nel Salmo 147, versetto 4, c'è un'affermazione che soddisfa questa osservazione che abbiamo appena fatto. Leggiamo che Dio conta il numero delle stelle e le chiama tutte per nome. Vedi? Per noi sono innumerevoli. Per Dio non è così. Dio conosce ognuna di esse. Dio le chiama con il loro nome. Consentimi di dirti ora qualcosa, approfittando del messaggio che ci offre il Salmo. Qualche volta hai pensato che Dio non ti conosce? Qualche volta hai pensato che Dio avrebbe potuto dimenticarti? Ti invito a ripensare a questa idea, perché se Dio è così preciso nei dettagli, così affettuoso al punto di conoscere tutte le stelle con il loro nome, tenendo in considerazione che sono per noi innumerevoli, certamente li conosci ciascuno degli 8 miliardi di esseri umani che abitano sulla Terra. Sa tutto di te. Ebbene, ritorniamo al nostro tema. L'universo è davvero vasto. L'immagine che stai vedendo ora sullo schermo non si riferisce, non raffigura le stelle in ogni punto. Ogni punto di questa foto è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble. Ogni punto indica una galassia. Pertanto, ciascun punto contiene miliardi di stelle. Ogni punto contiene un numero incalcolabile, forse pianeti e altre cose. Ora guarda quest'altra immagine. Queste macchie che vedi sullo schermo sono super a massi di galassie. Lì c'è una grande concentrazione di galassie e questo è l'attuale limite visibile dal nostro universo. I telescopi non riescono ad andare oltre. Pertanto l'universo può essere molto più ampio di ciò che abbiamo detto qui. E davvero noi concludiamo che questa prima causa può essere unicamente onnipotente. Nel Salmo 19, versetto 1, leggiamo I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Io credo in questo per tutto quello che vedo guardando al cielo. Questa causa prima, ossia priva di causa, deve essere intelligente perché non solo ha appena portato all'esistenza un universo vastissimo, ma ha portato all'esistenza un universo che funziona come un orologio, perfettamente. Pensa agli ingranaggi di un orologio. Immagina di essere un astronauta mentre cammina sul pianeta Marte e improvvisamente si imbatte in un meccanismo e, prendendolo tra le mani, si rende conto che si tratta di un orologio. Quali sarebbero le tue eventuali deduzioni? Prima, c'erano dei marziani che indossavano degli orologi. Seconda, è possibile che un terrestre sia passato da qui ed abbia perso l'orologio. Terza, non so se penseresti a questo. Le tempeste qui nel pianeta hanno messo insieme minerali, metallo, vetro e dopo milioni di anni è apparso questo meccanismo funzionante. Sono sicuro che non avresti pensato in questo modo. Infatti, contemplando il meccanismo dell'orologio, chiunque crede che ci sia un orologiaio, chiunque presuppone che se c'è qualcosa che rivela un disegno intelligente, un'intenzione, questo presuppone davvero una funzione e ugualmente l'intenzione di qualcuno che ha creato questa funzione. L'universo è così. Il sistema solare è come un orologio. I pianeti ruotano ad una distanza perfetta e con velocità costanti. I nostri orologi sono regolati dai movimenti astronomici. Pertanto, pensa al sistema solare. Considera che è molto più complesso e preciso rispetto agli orologi che ammiriamo così tanto qui sulla Terra. Questa causa prima deve essere veramente molto intelligente. Qualche anno fa, una pubblicazione brasiliana di una divulgazione scientifica popolare ha pubblicato un'edizione speciale intitolata 29 cose che non hanno senso. E ti farò vedere qui una sezione di questa pubblicazione che richiamò molto la mia attenzione perché infatti rivela quanto segue, come ha detto Winston Churchill. Alcune persone inciampano nella verità e si alzano e continuano come se nulla fosse successo. È quello che succede qui. Seguimi nella lettura. Se la gravità fosse un po' più forte, le stelle avrebbero vita molto breve e non ci sarebbe mai stato il tempo necessario per un'evoluzione della specie. Se fosse più debole, non sarebbe in grado di aggregare la massa in stelle. E la trazione è reciproca tra elettroni e protoni? Se fosse diverso da quello che è, non ci sarebbero atomi stabili. Sono parametri correttamente regolati a rendere l'universo un luogo abitabile. La domanda è che non si vuole tacere. Chi o cosa ha effettuato questo adeguamento o regolamento del cosmo lì, all'inizio di tutte le cose? Sai che nel paragrafo successivo non rispondono alla domanda, cambiano argomento. Di conseguenza è un tipico caso di inciampo nella verità, alzarsi, scrollarsi la polvere e fingere che nulla sia successo. Questa è la grande domanda. Chi ha fatto l'universo così regolato, così perfetto, governato dalla costante cosmologica, così bene assemblato? Questa causa prima può essere solo davvero molto intelligente, ma c'è di più. Questa causa prima deve essere immateriale, oltre lo spazio, e attemporale, perché ha creato il tempo, lo spazio e la materia. Infine, questa causa prima deve essere personale. Perché deve essere una persona? Perché l'energia, perché qualcuno di impersonale non sceglie di creare qualcosa. Solo un essere che è una persona, dotato di libero arbitrio, di potere e di scelta, potrebbe creare un universo come quello che vediamo che funziona sulla base del tempo, spazio e materia, complesso, funzionale, che dimostra un disegno intelligente. È interessante notare che questa causa prima, ossia non causata, è esattamente quella presentata dalla Bibbia. Il Dio della Bibbia è onipotente, intelligente, è oniscente per la verità, infatti è onipotente, è immateriale, è trascendentale, oltre lo spazio, tempo e materia, perché ha creato tutte queste tre dimensioni. È una persona. E siamo arrivati a questa conclusione fino a qui senza utilizzare effettivamente la Bibbia, una approssimazione puramente filosofica o diciamo perfino scientifica. 2 marzo 1972. In quest'anno c'è stata una conquista davvero molto importante da parte della scienza. È stata lanciata nello spazio la sonda Pioneer. In questa sonda il cui scopo era quello di fotografare pianeti, inviare informazioni alla Terra. È stata posta una targa di metallo, una piastra d'oro e su quella targa c'erano alcuni disegni. È stato messo un disegno, una rappresentazione dell'atomo di idrogeno, la distanza da 14 pulsar e un disegno del sistema solare, l'esatta posizione della Terra e da dove la sonda è stata lanciata. Oltre a questo, in questa targa c'è anche un'illustrazione di una coppia di esseri umani, un uomo e una donna. In totale, questa scheda contiene 1271 bits di informazioni. Carl Sagan, uno scienziato ateo, un grande astronomo americano, fu colui che ha avuto l'idea di apporre sulla sonda questa placca nell'eventualità che qualche intelligenza extraterrestre intercettando la sonda e quella piastra un giorno avrebbe concluso che qualcuno, ovviamente intelligente, avesse inviato nello spazio quella scheda con oltre 1200 bits di informazione. Ora, la domanda è la seguente. Quante informazioni esiste nel corpo umano? Un adulto possiede, produce in media 300 milioni di cellule al minuto, ossia 432 miliardi di cellule al giorno. Si faccia ben attenzione, 432 miliardi di cellule al giorno. sono molte informazioni e ogni cellula contiene perlomeno 1,5 gigabyte di codice genetico. In questo modo la persona trasporta circa 60 zettabyte, ovvero il numero 60 seguito da 21 zeri di informazioni. Fino al 2020 tutte le informazioni digitali prodotte dall'inizio dell'era dell'informatica dovrebbero raggiungere il traguardo dei 40 zettabyte, 60 zettabyte di informazioni contro 1271 bits di informazioni. Perché una placca di metallo su una sonda dovrebbe rivelare un disegno intelligente, una mente intelligente dietro a questa realizzazione, mentre un corpo che contiene trilioni di cellule e quindi oltre 60 zettabyte di informazioni non dovrebbe rivelare un disegno intelligente? Non capisco davvero come alcuni riescono a costruire un ragionamento e a cantonare quell'altro. Non pensi che sarebbe molto meglio se le persone adottassero quando studiano questi soggetti l'atteggiamento dell'Apostolo Pietro. Sì, Pietro, un semplice pescatore, un uomo brusco, umile, ma aveva in alcuni momenti persino una mentalità scientifica. In Luca 24, versetto 11, leggiamo lì il racconto della risurrezione ed è scritto che Maria Maddalena quando andò al sepolcro e lo vide vuoto, forse a raccontare ai discepoli che aveva visto che il sepolcro era vuoto, pertanto Gesù era risuscitato e Pietro ha dubitato, ma non è rimasto nel dubbio, corse alla tomba ed è scritto che egli è andato lì per vedere di persona. Questo è l'atteggiamento di un buon scienziato e una persona che ha onestà intellettuale, la quale deve vedere da sola. E io ti invito in questa serie Origini a fare esattamente la stessa cosa. Forse sentirei cose che non sono molto in accordo con la tua cosmovisione, con il tuo modo di vedere il mondo, forse non sarai d'accordo con alcuni concetti. Molto bene, ti chiedo soltanto una cosa, fai come Pietro, vai alle prove e controlla di persona con i tuoi occhi. Credo che avrai molte sorprese. Nel prossimo studio esamineremo il tema delle origini della vita. Alla prossima! Grazie a tutti!